super smoothie verde allo zenzero brucia grassi ciao amici gli smoothies sono perfetti per nutrirci e anche aiutarci a dimagrire scusa ma perché facile questo smoothie è goloso ma brucia grassi e si può bere a colazione come spuntino light se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video i suoi pregi principali brucia grassi e detox è un green smoothie a base di ingredienti tutti verdi stimola il metabolismo nutre il corpo a fondo ma pochissime calorie la clorofilla porta ossigeno ai tessuti migliora la circolazione sostiene il metabolismo cellulare i carotenoidi bloccano la formazione dei radicali liberi con benefici dimagranti detox e antiossidanti ecco come si prepara smoothie verde allo zenzero 8 foglie di insalata romana 4 rametti di prezzemolo 750 millilitri di acqua una banana una spruzzata di succo di limone 4 mele 2 centimetri di radice di zenzero io questi ingredienti li adoro e sono pronti in 10 minuti 1 lavaggio degli ingredienti lavate l'insalata e rompetela in pezzi piccoli lavate e tagliate il prezzemolo pelate la radice di zenzero e tagliate le a fettine sottili 2 preparare la frutta lavate le mele non sbucciatele poi tagliate le a fette ed eliminate i semi sbucciate la banana e tagliate la pezzettini 3 mixate il tutto versate il tutto nel frullatore aggiungete il succo di limone e l'acqua 4 frullare tutto frullate fino a ottenere un composto compatto e dolcemente schiumoso tenete il frigo fino al momento di servire e poi gustatevi lo smoothie verde allo zenzero per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche vediamo le proprietà degli ingredienti principali l'insalata romana è un tipo di lattuga che contrasta gonfiore e ritenzione idrica a poche calorie è un potere saziante la banana ha ottime proprietà energetiche effetti benefici sul metabolismo e sul potere brucia grassi la mela è un frutto antiossidante detox facilita la digestione contrasta la stanchezza così non vengono cali il prezzemolo depura il fegato i reni abbassa la pressione arteriosa è diuretico senza detox niente dimagrimento il limone è uno degli emblemi della salute ricco di vitamina c rafforza il metabolismo e aiuta a dimagrire lo zenzero è brucia grassi dimagrante antigonfiore grazie allo zingiberene antiossidante gli smoothie aiutano a dimagrire perché contengono poche calorie ma sono ricchissimi di energia vitamine e minerali mangia e bevi consapevole e dimagrisci vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video i link ai miei libri e the book i motivi per cui divulgo la mia esperienza seguimi sul canale sui social clicca mi piace condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito noi ci vediamo al prossimo video nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con simona vignali naturalmente ciao